Branchi di randaggi all'interno del perimetro ospedaliero. Come se non bastassero quelli liberi di girovagare per la città, anche gli ambienti interni ed esterni del San Giacomo d'Alto Passo sono diventati fissa dimora per animali a quattro zampe anche di grossa taglia. L'utenza della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia diverse volte si è già lamentata chiedendo l'adozione di provvedimenti in grado di allontanare i cani dal perimetro ospedaliero. L'ultimo tentativo di aggressione lo ha documentato un operatore sanitario in servizio presso il nosocomio di Contrada Cannavecchia, smontando dal mio turno in ospedale mentre mi accingevo a prendere la macchina nei pressi della portineria, spiega il protagonista della vicenda, mi sono visto circontare da una decina di cani randaggi alcuni di grosse dimensioni che ormai vivono in modo fisso dentro il perimetro ospedaliero anche perché qualcuno gli porta da mangiare. Vorrei sapere cosa intende fare l'amministrazione comunale in merito e il direttore sanitario che è responsabile dell'incolumità delle persone dentro la struttura sanitaria. La presenza costante di branchi di randaggi all'interno dell'ospedale è stata documentata varie volte, non si contano più delle legittime dimostranze da parte dell'utenza ma anche da parte dello stesso personale medico e paramedico in servizio nella struttura sanitaria. Si tratta di animali di grossa stazza che rappresentano un pericolo praticamente H24 visto il loro numero elevato. L'auspicio, come annunciato anche dal sindaco nelle ultime ore, è che nel prossimo bilancio che verrà approvato all'inizio del 2016 siano effettivamente inseriti dei capitoli di spesa relativi alla riduzione del randaggismo su tutto il territorio comunale.